Chiunque popolo americano sceglierà sarà il Presidente degli Stati Uniti con cui noi vorremmo collaborare. Sono qui in testa istituzionale per il Presidente di Regione Lombardia, realmente quello che conta è il risponso del popolo americano e chiunque sarà il Presidente. Si tratta di persone che conoscono benissimo l'Europa e l'Italia e con cui possiamo avere dei rapporti molto positivi. Questo è quello che conta. Noi vogliamo risaldare i rapporti tra i due lati dell'Oceano, lo vogliamo con l'Italia, lo vogliamo con l'Europa, dobbiamo fronteggiare una crisi politica ed economica difficilissima, abbiamo situazioni di crisi nel mondo, pensiamo all'Afghanistan che è ancora in guerra, pensiamo al Medio Oriente con le tensioni sull'Iran, pensiamo al tema della lotta alla fame del mondo, sono tutti temi che Europa e Stati Uniti devono portare in scena. Vi assicuro che come il gelato italiano non ci c'è capo. Ragazzi questo è il gelato americano, disquisito, ma vi assicuro che come il gelato italiano non c'è capo.